Ad Arezzo arriva Farbanotte, è stato infatti firmato il protocollo di intesa relativo a questo nuovo servizio che prevede la consegna gratuita di farmaci a domicilio per soddisfare così richieste urgenti di persone senza rete parentale o momentaneamente sole in orario notturno. Nel momento che arriva la cosiddetta guardia medica, il medico di continuità assistenziale che va a casa della persona a fare la visita può rilevare la situazione della persona e il suo disagio, chiama il corpo dei vigili giurati e questi vengono a casa della persona prendono la ricetta, vanno nella farmacia più vicina, aperta di notte e gli riconsegnano il farmaco. L'importante è che i cittadini che sanno di poter ristiare, di aver bisogno di un servizio del genere si iscrivano presso il comune di Arezzo in un apposito elenco per rendere tutto più semplice e veloce anche la guardia medica la segnalazione e il coinvolgimento dei vigili giurati per la consegna appunto di questi farmaci. Il servizio sarà attivo da lunedì alla domenica anche nei giorni festivi infrasettimanali dalle 20 alle 7. Sembra piccola ma è grande perché poi come tutte le cose importanti non ci si pensa quando non se ne ha bisogno poi ti trovi nel momento del bisogno e magari hai una persona anziana in casa, non sai come fare il medicinale serve, è urgente e in quel caso lasciare l'anziano malato diventa davvero complicato va chiamato qualcuno, non si sa chi, se uno è solo non vedo perché debba essere lasciato solo in un momento di difficoltà quindi c'è il comune che si attiva.